Silenzio, silenzio ai posti. Buongiorno. Buongiorno. Come qualcuno di voi avrà già notato, oggi in classe abbiamo una novità. Una nuova compagna. Ma lasciamo che sia lei a presentarsi direttamente. Ciao, io sono Stefania, vengo da Varese, ho 14 anni e che dire. Mi piace la musica, lo sport e credo molto nell'amicizia. Per questo non sopporto quando le persone tradiscono la mia fiducia. Me ne sono andata da Varese proprio perché persone che credevo a mie amiche mi hanno tradita. È successo tutto ad una festa di compleanno. Una festa normale, quella a cui andiamo tutti. Insomma, che non ha mai bevuto un po' di più in assenza di genitori. Beh, io quella sera ho bevuto un po' troppo. Ho vomitato in bagno e sono svenuta. A questo punto alcuni ragazzi che erano alla festa, al posto di chiamare mio padre e farmi venire a prendere, hanno fatto una cosa orribile. Hanno fatto finta di avere un rapporto sessuale con me, mentre ero incosciente. E non si sono limitati a questo. Hanno ripreso il tutto con un cellulare. La mattina seguente io non ricordavo nulla. Ma è bastato riaccendere il cellulare per ripiombare nella realtà. In sole 24 ore ho ricevuto 2000 messaggi di insulti. Mi hanno derisa, mi hanno presa in giro, mi hanno dato della puttana. Come si può essere così cattivi? Ero soffocata dalla vergogna, non riuscivo a respirare. Volevo stare in camera mia da sola, non vedere nessuno. Le parole fanno più male delle botte. Ed è questo quello che ho scritto su un bigliettino alle tre di notte del 2 aprile del 2014. La notte in cui ho scritto ti amo per la prima e l'ultima volta mio papà. La notte in cui ho detto addio a Varese, a tutte le persone che credevo mie amiche e a quelle poche che lo sono state davvero. Quella notte io ho aperto la finestra della mia camera e mi sono lanciata giù, facendola finita per sempre. Se non fossi morta, oggi sarei una vostra compagna di classe. E non potete capire quello che vi siete persi. E non potete capire quello che vi siete persi. Grazie a tutti.